Immagino il mio territorio che possa nutrirsi di un'energia positiva, quell'energia viva, pulita, bella e potente come la forza del Delta del Po. Io penso che in futuro la biosfera possa riuscire a riempire questa spiaggia che oggi non è molto frequentata, che appunto possa dargli quel valore aggiunto che oggi manca. Vorrei che il nostro territorio venisse valorizzato per tutte le attività che ha da offrire, anche innovative, però comunque nella tutela del suo ambiente. Mi immagino un futuro con maggiore consapevolezza e maggiore coscienza che il nostro territorio è una risorsa e non un limite. Vorrei che la narrazione e la tutela di questi posti mi offrano un'opportunità di lavoro per non dover andare via e rimanere nella mia terra. Io sto studiando qua e spero davvero che tutta questa meraviglia diventerà un giorno il mio futuro dove io potrò lavorare. La mia visione è quella di riportare su questa terra ciò che veniva coltivato su questa terra, quindi dei cereali rurali storici del nostro parco. Immagino un futuro in cui grazie alle energie rinnovabili la nostra terra possa essere libera da tutti questi fili che ci impediscono di apprezzare il nostro paesaggio in maniera incontaminata. Immagino che questo simbolo di economia industriale possa diventare un simbolo di economia sostenibile che giovia alla natura, agli abitanti e ai visitatori che vengono in questo territorio a scoprire le bellezze. Immagino che tutti i muri grigi e rovinati della mia terra possano riempirsi di disegni, di colori, di note e di bellezza. Immagino che tutti i muri grigi e rovinati della mia terra possano riempire le bellezze.